Ci siamo, questa è l'ora di Small Jets, un programma di Luciano Marrone. Buonasera e benvenuti a Small Jets Café, anche questa sera puntuali come sempre alle 23. Partiamo con la nostra rassegna musicale dedicata alla musica della notte. Buon ascolto da Luciano Marrone Buonasera e benvenuti a tutti. 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 Tutti i giorni su RCD Small Jets Café. Buonasera e benvenuti a tutti. 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 Buonasera e benvenuti a tutti.